È una notizia positiva perché questa sentenza rimette al centro le nostre motivazioni. Il Consiglio di Stato, dopo un'iniziativa che è nata dal 2016, dopo tutti questi anni, dice che il percorso che noi sostenevamo è corretto, quindi l'auspicio è che questo progetto venga definitivamente bocciato e se vogliamo discutere discutiamo di qualcosa di nuovo che oggi sorge dentro una realtà che è attenzionata per tante altre realtà legate alla sostenibilità. Così Giuseppe Di Marco, presidente regionale Lega Ambiente, che con il WWF ha indetto una conferenza stampa per fare il punto sulla nuova sentenza del Consiglio di Stato riguardante il cementificio di Punta Penna a Vasto. Gli associazioni ambientaliste insieme all'avvocato Paolo Francesco Febo hanno spiegato i contenuti della sentenza e anticipato le future azioni da mettere in campo per la salvaguardia del territorio. Quindi dal tema della Via Verde allo sviluppo cicloturistico della costa di Tarbocchi, è un'area industriale che a nostro avviso deve diventare sempre più sostenibile e tenere al centro la qualità della vita dei cittadini. Una vicenda lunga quella del cementificio che ha raccolto anche tanti no da parte dei cittadini. Stiamo parlando del ricorso ad ESCAL che è un cementificio di fusione a freddo che nasce proprio sull'imbocco della Via Verde. Quindi un progetto ormai ventennale, fuori tempo, che non ha più senso su una costa di Tarbocchi che alla luce anche dell'ultimo successo del Giro d'Italia punta a tutt'altro, quindi punta a un'economia diversa, sostenibile. Questi sono impianti ormai obsoleti che fanno parte di una vecchia economia che non rientrano dentro la transizione ecologica. Quindi l'idea di un nuovo progetto c'è già? Diciamo che concluso l'iter, come noi ci auspichiamo, con una bocciatura definitiva e completa, significa che deve essere riproposto un nuovo progetto. È chiaro che un nuovo progetto dentro questo scenario che oggi ha una dimensione culturale, un'attenzione più forte verso la sostenibilità, a quel punto diventa quasi improponibile. Grazie.